Nella giornata in cui Jean-Luc Pasquier è venuto a mancare causa il grave incidente occorso nelle qualificazioni al Mugello il moto mondiale comunque non si è fermato e ha corso una gara in particolare quella della MotoGP che in realtà passa in secondo piano così come quella delle Moto2 e delle Moto3 gare che io peraltro non ho deciso di vedere complimenti comunque a Foggia e Garner per aver vinto soltanto visto la gara della MotoGP ma in generale questo racing podcast sarà incentrato anche e soprattutto sulla memoria di Jean-Luc Pasquier pilota svizzero che era la miglior stagione della carriera nella classe leggera tutte le gare appunto di MotoGP, Moto2 e Moto3 hanno corso la notizia poi della morte di Du Pasquier è arrivata al termine o quantomeno in corso della gara della Moto2 poi prima della gara della MotoGP è stato osservato un minuto di silenzio e anche il commento di Sky Sport alla gara della MotoGP è stato decisamente molto più sobrio e rispettoso verso comunque un pilota che stava veramente lottando tra la vita e la morte a differenza magari di quello che si è sentito comunque in Moto3 e in Moto2 dove peraltro tanti piloti non hanno comunque corso il team di Du Pasquier si è ritirato dalla gara Thomas Luth il pilota svizzero di Moto2 non ha corso io nel mio picco le gare non le ho viste un po' per rispetto a Jean-Luc Pasquier ho visto comunque la MotoGP in un tono comunque abbastanza sobrio e compassato tono con cui apriamo questo racing podcast appunto ricordando chi era Jean-Luc Pasquier velocemente era un pilota svizzero di 19 anni, giovanissimo era la sua seconda stagione in Moto3, era la migliore stagione della carriera perché dopo la prima stagione del 2020, stagione corta a causa Covid aveva cambiato squadra, era appunto andato al team Prustel in KTM aveva comunque accumulato i risultati di un certo rilievo perché abbiamo delle top 10 in carriera per Du Pasquier ed erano i primi punti della carriera del pilota helvetico che comunque era uno dei piloti più costanti del panorama della classe entrante purtroppo l'incidente che appunto lo ha costretto a lasciare questo mondo non ha fermato comunque il motociclismo in generale che comunque ha corso in suo rispetto e in sua memoria, ho già parlato anche della vittoria di Dominic Gerter in Super Sport 600 pilota helvetico, andatevi a recuperare il video in quel caso in Moto3 e in Moto2 hanno vinto rispettivamente Dennis Foggia e Remy Garner l'australiano è leader del mondiale, ma onestamente appunto delle gare non parlo perché non le ho viste ho visto quello che invece è stata la gara della MotoGP appunto vinta da Fabio Quartararo che comunque ha ricordato anche lui Du Pasquier al termine della gara è stata una gara di MotoGP in realtà veramente brutta, non una gara coinvolgente a essere onesto l'unico diciamo segno della gara interessante è la caduta di Francesco Bagnaia che era in testa dei primissimi giri del Mugello purtroppo lancia la Ducati per le terre del circuito toscano e di fatto aptica ha anche lui diverse possibilità del titolo un po' come è stato in Superbike con Scott Redding che cadendo di fatto ha aperto la porta a Jonathan Ray e qui in misura minore Bagnaia apre la porta a Fabio Quartararo che comunque ha ancora una volta dominato una gara e sbaragliato la concorrenza per il resto tutto quello che si è visto è stato una lotta per il podio un podio che vede qualche inserimento interessante come come vedono per esempio quelli di Olivera e Mir anche se c'è comunque un giallo dietro al loro podio ma ne parleremo più avanti nella classifica del campionato per il resto appunto tolta la caduta di Bagnaia e la caduta di Marc Marquez ma solo per Palmares perché Marquez non stava di certo lottando per vincere questa gara la gara di per sé si è diciamo esaurita così come era partita dunque con la vittoria di Fabio Quartararo che dunque ancora una volta taglia il traguardo per primo per lui suona ancora una volta la Marsigliese e mai come questa volta la vittoria di Quartararo è significativa soprattutto per il suo ricordo verso Giorno Dupaschier vedete qui il pilota francese che appunto ha portato con sé la bandiera rosso crociata della Confederazione Ilvetica sul podio con sé appunto per ricordare il pilota scomparso un po' è la stessa cosa che fece Jack Hittgen quando una settimana dopo la morte di Uber vinse a Monza e portò la bandiera francese sul podio italiano un podio abbastanza sobrio così come lo è stato questo della MotoGP comunque ha corso una MotoGP che comunque assegna ancora una volta dei nuovi punti per il titolo del mondo e appunto è la gara che probabilmente indirizza già il mondiale verso la Francia verso Fabio Quartararo che sembra veramente il pilota più in stato di grazia di questa MotoGP che ancora una volta vive di inserimenti qua e là dietro Fabio Quartararo vede una Ducati che non sfrutta molto bene diciamo così il weekend del Mugello vede un resto del mondo abbastanza after the music Yamaha compresa perché se non ci fosse Fabio Quartararo parliamoci chiaro la Yamaha sarebbe una grossissima delusione in questo campionato del mondo sorprende invece in meglio la KTM che invece dà segnali di risveglio perché la casa austriaca ne piazzerà 3 nei 10 Fabio Quartararo in ogni caso vince la terza gara su 6 gare e si porta 105 punti in classifica del campionato del mondo il secondo torna a essere Johan Zarco che non finisce sul podio nonostante le proteste del team Pramac per far spingere Zarco sul podio per via di alcuni infrangimenti fatti da Mir e Oliveira Mir e Oliveira che sono finiti sul podio con il portoghese secondo su KTM ufficiale e lo spagnolo terzo su Suzuki ufficiale il giallo qual è? Che nell'ultimo giro sia Oliveira che Mir diciamo vengono penalizzati per aver oltrepassato i limiti della pista questo il regolamento prevede così il problema è che in realtà all'uscita di una curva del Mugello c'è un tratto di asfalto delimitato di colore verde se un pilota va a eccedere quel verde viene nell'ultimo giro retrocesso automaticamente in una posizione il problema è che lo fanno sia Oliveira che Mir e il regolamento aveva inizialmente prima depennato Oliveira dal podio Oliveira che è finito terzo al traguardo con Zarco sul podio poi si sono accorti che anche Mir ha effettuato questa stessa infrazione di Oliveira dunque di fatto vengono invertite le posizioni tra Oliveira e Mir fatto sta che appunto per via di questo giro di penalità e le conseguenti proteste che evidentemente non sono state accolte perché Zarco mi ha dato quarto da parte del team Pramac il podio è quarto al loro primo Oliveira secondo ma terzo al traguardo e Mir terzo ma era secondo al traguardo insomma hanno fatto lo swap tra il secondo e il terzo in ogni caso è trionfo per la KTM in ogni caso perché la formazione austriaca fa il primo podio della stagione con Oliveira e piazza l'altra moto ufficiale al quinto posto con Brett Binder gli altri piazzamenti per arrivare in fondo alla top 10 sono Jack Miller sesto una delle delusioni in realtà di questa gara lui che veniva da due vittorie consecutive non riesce ad arrivare oltre la stessa posizione ma oggi la Ducati ufficiale in generale era abbastanza inerme Bagnaia probabilmente poteva giocarsi il podio ma appunto si è steso e Miller non ha fatto niente per dimostrare di meritarsi il podio oggi sorprende sempre di più l'Aprilia di Alessia Spargerow che ancora una volta fa una top 10 quindi un grande risultato per il pilota spagnolo e la casa di Noale ottavo Maverick Vignales ancora una volta una delle delusioni più incredibili di questo campionato del mondo si sta rivelando paradossalmente un pilota più costante degli altri anni ma è plafonato sempre tra l'ottava e la decima posizione non propriamente al massimo per uno che dovrebbe competere per il titolo del mondo non ha posizione per Danilo Petrucci uno dei rider del giorno in modo di vedere perché pian piano si è adattato a questa KTM clienti e è cresciuto tantissimo evidentemente il quinto posto di Le Mans ha fatto tanto bene al pilota Umbro che è arrivato appunto ancora una volta in top 10 stavolta nono a punti e decimo Valentino Rossi che in realtà fa una gara ancora una volta abbastanza anonima va a lottare con Iker Lecuona che invece lui è un pilota che sta dimostrandosi essere in crescita Rossi in realtà ancora una volta fa una qualificazione disastrosa sta partendo ventesimo e arriva a decima posizione per un po' cedimenti di altri piloti un po' per tante carute da davanti in ogni caso non è propriamente una gara da ricordare per Valentino Rossi che sta sicuramente affrontando la peggior stagione della carriera e obiettivamente c'è già da interrogarsi sul motivo sul come mai un pilota di anni 42 che va per i 43 sia ancora a lottare con piloti che hanno la metà degli anni di lui praticamente senza portare risultati io capisco la passione e anche i soldi che possa portare un pilota del genere ma qualche riflessione in generale andrà fatta ma non è merito di questo video per quanto riguarda ovviamente una gara della MotoGP che ha corso comunque in ogni caso con un ambiente un po' diverso dal solito per via della morte di Gerson Topasquier velocemente gli altri italiani Enea Bastianini si auto elimina dalla gara di El Mugello perché nel giro di ricondizione di fatto per evitare di tamponare Johan Zarko fa una staccata furibonda impennando la moto al posteriore e di fatto cadendo e non partendo nemmeno per quanto riguarda Luca Marini c'è una 17esima posizione che lo fa un po' tornare nei ranghi ma in generale il team Avintia non era propriamente sul pezzo ci sono ancora una volta punti per Lorenzo Salvadori segno che sta anche lui crescendo per quelle che sono le sue potenzialità dunque veramente bravo a Lorenzo delude tantissimo Franco Morbidelli che appunto in generale è la delusione del giorno insieme un po' a tutta la Yamaha se prendiamo la parte dei piloti che dovevano puntare per il titolo e quindi mi riferisco anche a Vignales e qui Morbidelli così un po' come Rossi in realtà non ci ha capito molto di questa pista e non raccoglie punti passo molto indietro per il pilota isolo-brasiliano finisce qui dunque questo Racing Podcast rapido in realtà per quanto riguarda la MotoGP con conseguente analisi e ricordo di Jacin du Pasquier ci sarà comunque tempo per tornare in pista per quanto riguarda la MotoGP ci sarà il Gran Premio di Catalogna il circuito del Montmelò di Barcellona sarà la prossima settimana il Racing Podcast invece in quel caso ci sarà il martedì dopo la Formula 1 che comunque sapete ha sempre priorità sulla MotoGP così come l'ha avuta la Superbike nel Racing Podcast di ieri il saluto da parte di MyTutorgard ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti per aver guardato il nostro video Grazie a tutti per aver guardato il nostro video Grazie a tutti